ok raga eccoci qui con la mascherina della juve e con la felpa youtube ricordate che io sono sempre per voi e sono uno youtuber sono famoso e sono una leggenda e sono un dio di youtube e mi dissocio scusatemi perdonatemi sono qua a fare questo video ora così a prossima le facciamo sotto fuori la sutta e altre parto che raga io sono qua seguitemi quando vedete e fate i bravi e john zina yoyo menenzini voglio dire mettete mi piace iscrivetevi al canale ciao da campanella bello a tutti i ragazzi e niente registriamo un poco intra dove andiamo due barconi e tutto voi se voi non avete visto e tante cose qua forse alla prossima ciò calma il mustro piano piano tutte le cose e vabbè raga fino alla fine fino alla morte juventus regina italia io tifo queste tre squadre e niente io voglio raccontare la nostra juventus ha vinto la coppa italia la juve ha fatto i gol e ha vinto la coppa italia e l'atalanta zero ha perso forza così juve fino alla fine fino alla morte cristiano ronaldo e la squadra della juve bianco e neri state con noi e vinciamo tutte le partite andiamo avanti e boh che voglio dire sono qua saluto paolo silvia lori claudia gloria silvia mary e janever quell'altra me con la j luce del nord alla colla x e assunta e poi no portate il telefono e lo apro quando è ora ancora no alle 4 quando tana o quando cala apro il telefono il pomeriggio e vedi i vostri messaggi io voglio fare tutti i giorni anche le dirette i video per voi così siete tranquille non siete triste arrabbiate guardate i miei video così quando finisce questo bordello del coronavirus ancora non so quando finisce se quest'anno a mare voglio andare così vedo elena lia una ragazza che mi vuole bene ho fatto tante foto con lei i video saluti facciamo un video insieme con lei a mare e ricordate i vecchi video a mare arrivano anche quelli e anche in giro con la mascherina senza lontano delle persone e voglio dire una volta tanto quando era l'azzarro sono uscito in televisione reggio tv chississimo voi se trovate il video su youtube scrivete chississimo di lazzaro c'è il titolo e trovate anche a me con la mia famiglia e quello video là che è andato anche in onda reggio tv è uscito tanto non voglio dire l'anno vecchio l'anno scorso non le dico più scusatemi perdonate baci lo so silvia e voi che questo è un'altra frase e niente dai andiamo avanti metto pausa aspettate raga ora raga facciamo così io sento caddo c'è un calurri e ho messo il maglione veloce così faccio il video quando scendo sotto me lo caccio e mi metto la maglia corta che se sento caddo l'ho messo che registro il video questo non si mette ora si mette inverno l'ho messo lo stesso così cambio i vestiti io non ho altri vestiti quando mi mandate voi i regali qua sotto trovate il link di amazon toccate la freccia e toccate il link o lo devo giustare che mi dite in privato il link non si vede lo giusto e lo metto di nuovo e arrivo ok quando toccate il link di amazon scegliete quello che volete e mi mandate a casa con il postino e mi arrivano ok ora andiamo sopra a registrare altri questo video dopo scendiamo sotto andiamo da un barcone e finiamo il video lì lo chiudiamo fuori o intra io sono italiano con la brezza e dialetto e niente ho 29 anni sono di Montagno e provincia di reggio calabria e sono qua ok andiamo sopra e metto pausa non voglio registrare che c'è devo giustare c'è baci a tra poco dai guardate la scala e siamo qua eccoci qui lì e fuori si a canestro voglio dire qua c'era il letto grande e mi c'era il mio zio sullo wow che io serviva qua sopra questa casa è della mia famiglia ora mostro dove dormo così i scemi non parlano di quell'altro canale che quelle su telegram o quelle che mi chiamano o quelle che mi chiamano o quelle che mi mando i saluti i vocali lo sanno che dormo qua a me piace anche fare i video sotto volevo fare il gameplay vediamo i giochi ho sul cellulare io portavo anche i giochi con la play e non ce l'ho più una volta avevo la play 1 e l'ho regalata a scuola o giocavo a topolino e altri giochi dopo la play 2 si arrozza e non mi funzionava e mi sono tenuto i giochi ce l'ho tutti scritti con la mia firma vabbè i giochi della play 3 ce l'ho e li tengo posati e non ho altra play e non posso giocare con voi a fortnite a cta 5 e altri giochi quando o me la compro o me la regala qualcuno la play giochiamo a cta 5 a cta 5 e a fortnite che io non ho giocato mai una volta ho giocato a torino a fortnite e a cta 5 e altri cta dei parenti la non dico i nomi che voi siete scemi e non capite niente e io sono un bravo ragazzo e voi non fate niente io faccio il lavoro vabbè mettiamo pausa oh raga ora mi ricordai oggi era la giornata con i capelli sciolti ho cominciato il video con i capelli attaccati e mi sperdia ora mi sono sciogliuto ho cacciato il coso e ho messo i capelli così io sono carino così con i capelli sciolti io mi sperdia che oggi era la giornata con i capelli sciolti scusatemi perdonatemi io mi scuso con tutti e mi dissocio scusatemi vedete il video metà con i capelli attaccati ora sciolti vabbè io sono qua ora metto pausa e andiamo per la no metto pausa o cammino e registro che dite voi raga ok raga eccoci qui e niente ora lo chiudiamo sotto forse il video raga ora finisco registra ancora un pochino qua raga qua è il letto lì andava la televisione qua sopra c'è la lampadina quella attaccata al muro lì andavano i giobbotti attaccati non si vedono che devo mostrare io così a voi eccoli là con la mia mascherina della juve le persone devono stare zitti io tipo la juve la regina italia fino alla fine fino alla morte noi ha vinto la coppa italia cristiano raga e cristiano raga non deve andare via ho sentito che che la va via a giugno non mi ricordo davvero deve stare con noi della juve cristiano ronaldo e gigi buffon era un numero uno il portiere il capitano e vabbè e tutti queste tre squadre erano bravi e io le tifo sempre fino alla fine fino alla morte da piccolo da ora che ho 29 anni tifo queste squadre prima tifo solo italia e la regina dopo mio papà tifo alla juve e anch'io e io sono contento sono andato tando sono passati anni a il capo di torino della juve e ho giocato con i miei cugini tando e passati anni quando sono andato ora metto pausa e chiudiamo la luce dai arrivo scrivete va a canale tifo da campanella bene tutti i ragazzi seguitemi e fate i bravi e condividete andiamo ok raga io vi saluto e finisco questo video qua e questo bagno qua e vedete che mancano i pezzi e lo specchio e dove lavi i bani e si luva qua sopra e niente io vi saluto vi voglio bene o finisco da da scala il video forse qua da scala o lo finiamo qua dada che dite voi dimmi voi che io non voglio dire le stesse cose ah mi spedì a devo andare fuori due barconi non devo chiudere il video raga che dite mi dissocio aspettate aspettate così lo chiudo sotto è meglio dai mi spedì a io ok raga sono qua io vi saluto vi voglio dire il video di bene grazie a tutti e grazie a guardare i miei video grazie 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 benvenuti io vi saluto scendo sotto metto quell'altro a carricare su youtube guardo qualcosa vengo sopra mi riposo ancora e scendo un minuto sotto a mangiare un gelato dopo avete visto dove dormo quelli due lettini uno è mio e dormo sopra voi chiudete la bocca che non potete dire niente la pelle o si tacco sotto o i tacco qua vediamo e facciamo il tempo o i lascio così quando scendo sotto me le tacco mi faccio questa perpa qua i padalone mi metto la tuta quella famosa ricordati i vecchi video famoso video zappaviglia e parole 2014 ho fatto quello famoso video dopo intervista 2015 dopo a natale 2018 con quell'altra persona io sono famoso sono uno youtuber e sono una leggenda sono il dio di youtube voglio bene baci e chiudiamo il video così ciao ragazzi ciao ragazzi